Abbiamo fatto questa proposta al Comune, siamo fatti carico di creare questo evento per vedere come va. Durerà dal pomeriggio fino alla prima sera, quindi massimo 11.30. La prima sera si svolge con Nina Persson e James Yorkston, ex componenti dei The Cardigans, che presentano il loro progetto semi-acustico con un fresco pop country folk. Ci sarà anche la presentazione del suo ultimo libro di James Yorkston alle 19, mentre il concerto inizierà alle 21.00. Ricordiamo che all'interno ci saranno spazi di cibo, di beverage e alcuni mercatini che si svilupperanno più alla giornata dopo, che facciamo in collaborazione con il Black Marmalade. Ricordo che l'evento è organizzato da Mangaroni e Bagnels insieme, lo spazio è stato chiamato Mangarden, perché è il giardino adiacente al circolo storico della città che organizza diversi eventi e concerti. Esattamente due mesi fa, a luglio, è andato a fuoco il furgone con tutta la merce del negozio, in fase di trasferta per una fiera del disco legata a un festival. Da lì è partito immediatamente un crowdfunding, una grandissima collaborazione e partecipazione da parte di tutta Italia. Abbiamo raccolto quasi 19.000 euro con più di 500 donazioni, oltre naturalmente tutto il materiale che è arrivato dalla gente, che ci hanno portato dischi e altre cose. Per questo motivo abbiamo deciso, legato al Mangarden, la giornata di sabato 9 settembre, di realizzare un Thanksgiving Day, una giornata di ringraziamento per tutti coloro che hanno aderito a questo progetto, che hanno dato la possibilità al Black Marmalade Records di potersi risollevare. La giornata si svolge con una serie di appuntamenti, c'è una grossa partecipazione da parte di una serie di disegnatori che disegneranno, faranno delle tavole specifiche per Black Marmalade Records, tra i quali ci sono Camilla Cesarini, Moro, Alessandro Baronciani, Guido Brualdi. Una serie di DJ set legati al live dei Kodaclips, formazione di Cesena che fa Show Gates, del Market. Ci sarà la possibilità di giocare alla Adriatic League del Molchi e DJ set sino al termine della serata. Grazie a tutti.